Somma Lombardo, Somma Lombardo TV Buonasera a tutti gli amici di Somma Lombardo TV mi sono immersa nel mondo di legato qua entre musica e maracas si dice così in spagnolo certo ecco ascoltiamo un po' e conosciamolo in po' che sono arrivati esclusivamente per Somma Lombardo TV qua a Somma ecco siamo qua con Paolo raccontaci un po' il legato bene, noi stiamo qui facendo una gira internazionale per Europa per Italia, Spagna e Alemania quindi siamo venuti qua a fare un giro sia Alemania, Spagna e ovviamente Italia a Somma Lombardo tra l'altro desde quando nasce il legato? hace 4 anni in un programma di televisione in un concorso ganiamo il nostro genero che è Pop Rock così che da lì sorgì il legato questa famiglia di legato quindi loro nascono in un concorso di TV e così vanno avanti in Argentina che parte dell'Argentina? la provincia di San Juan San Juaninos San Juaninos quindi nati a San Juan con che genere? con che musica? rock, pop, melodico sì e facciamo passiamo il microfono a Leo un giro ecco qua vedo che stai allenandoti un po' microfono tutto tuo ecco raccontaci un po' del genere che fate e del stilo che facciamo il stilo che facciamo è rock, pop, melodico in realtà è un po' l'apporte di cada uno di noi di quello che ci piace ascoltare e di quello che ci piace fare noi juntiamo tociamo e questo è lo che sale quindi datevi all'immaginazione con quello che nasce al momento esattamente come mai il legato? perché il legato? il nome? il nome del gruppo nasce perché diciamo familiarmente abbiamo la tradizione della musica cioè nostri padri nostri abueli e così successivamente tutti toccavano un strumento avevano bandas suonavano quindi un gruppo che nasce ecco praticamente dai nonni poi zii eccetera e così via esatto e quindi voi avete preso il meglio di tutti loro eh però non solo perché qua c'è Pablo, Leo e Melissa che sono fratelli ma c'è anche Mariano e Juan Cruz che anche loro apportano la loro musica Juan Cruz Giovanni Croce ecco contanos algo di quando ti integraste al gruppo da quando ti sei integrato al gruppo buono fu nel programma che los chicos empezzarono a partecipare e buono ahi nos contactamos con noi già toccavamo un anno anteriore e buono di soluzione salimos del concorso e nos gustò di seguire tocando e ya empezzamos a perfezionarnos quindi il batterista ufficiale del legato sempre tu si e quindi anche loro si sono conosciuti in questo concorso adesso invece presentiamo la voce femminile che sinceramente sentirla viene viene il brivido Melissa ciao Gabi con questa voce così invece riesci anche a stupirci Melissa tu invece sempre siete nel gruppo dei fratelli e non però ormai siete nello stesso siete ormai in famiglia no? si da quanto tempo che suonate quanto tempo che suonano? hace ya 4 años juntos Mariano se integrò hace poquito hace 2 meses pero nosotros 4 ya hace 4 años y medio que estamos juntos quindi 4 anni vabbè Mariano è l'ultimo arrivato e devo dire che ha messo questo tocco alla band veramente bello Mariano tu cosa cosa pensi di questo giro che pensate di questa gira qui in Italia? la verdad che fue una sorpresa para mi hacer una gira yo en San Juan en un pueblo me venía desempegnando musicalmente dentro dell'ambiente musical de Cuyo de la región de Cuyo en Argentina y de un día para otro me dijeron vamos a Europa tu suonare el baco no 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 la guitarra la guitarra perdón quindi Mariano ti sei aggiunto ultimo momento a far parte di questo meraviglioso gruppo quindi ha aggiunto il suo tocco di magia direi perché fa anche questo bene io adesso vi chiederei di suonare un po' per me se posso approfitto no intanto che vi preparate d'appuntamento per stasera alle nove e mezza dal capitano che c'è e fernesito con coca tipica bevanda argentina e c'è anche il giro quindi non potete perdervi questo legato in diretta venite a conoscerli di suonare di suonare di suonare con storia ojalà che nonca se olvide di mi la quiero e la espero in mi soledad i think i understand what you said to me però quando sape la nicolazione trago si che sei mazzolava con otro macho in nossa puesta però no ain't you ain't you no ain't me no hay nadie con tu mamma baby come back tu sabes che te necesito baby come back mi corazón è serviso e ti vienes con io e ti volto scopo e mi sento come mullere eeeh 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 ci vediamo la prossima ci vediamo stasera soma lombardo soma lombardo tiero eeeh 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 Grazie a tutti.